Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Se avete seguito gli ultimi post di questi ultimi giorni sulla community o anche solo se avete letto il titolo del video, saprete di cosa parliamo oggi. Ci avviciniamo al video che praticamente mi avete chiesto in tantissimi. Diciamo che questo è un video di avvicinamento, nel senso che se sapete che questa, la ROG Alley, non è una banale console ma che praticamente può essere connessa ad un PC o a un hub e può essere praticamente, può diventare un vero e proprio computer, un desktop replacement che possa andare quindi a sostituire totalmente un computer di fascia anche medio alta per cui, per dare un senso anche ai soldi che eventualmente si devono spendere per comprarla, però ovviamente per poterla sfruttare appieno c'è bisogno di un po' di accessori. Un po' di accessori per poterla sfruttare quindi in tutte le varie situazioni, quindi sia nella massima portatività sia come desktop replacement. Per cui questo video parlerà di quelli che secondo me, eccoli qua, sono gli accessori indispensabili per poter sfruttare appieno la ROG Alley. Faremo una prima parte di unboxing e poi ci dedicheremo ad avere praticamente una prova di come, una volta sistemata la ROG Alley, di come funziona una volta che magari proviamo ad attaccarla anche al nostro monitor e a una tastiera e vediamo come va. Quindi seguitemi nel video, ma prima la sigla. E allora partiamo per prima cosa con l'unboxing. Il video si chiama Accessori indispensabili. Io magari vi lascerò qualche link in modo da, se vi interessa qualcosa, potete prenderli. Adesso devo dire una cosa però. Per quanto, quindi, tutto ciò che vi serve per sfruttare appieno la potenza della ROG Alley, sia in portatilità, e in questo caso parliamo della case, della custodia, sia per poterla attaccare ad un monitor, quindi docking station e microSD di una certa capienza. Vedete, questa è un Alexa da 512 GB. Adesso il punto qual è? Il punto è che, per quanto riguarda questi due, adesso vedremo come andranno, quindi la docking station, JSO e la scheda dell'Alexar, sono in assoluto i best buy che vi consiglio. Anzi, diciamo, questi sono quelli che ho scelto dopo aver visto un pochettino, aver fatto un po' di ricerche in rete ed essermi informato. Devo fare, invece, una precisazione per quanto riguarda la case. Questa, come vedete, è una case originale della ROG. Questa case è carissima. Adesso voglio sperare almeno che sia figa. Io, sinceramente, ammesso che non sia proprio bellissima, io devo ancora aprirla, quindi farò anche una sorta di reaction insieme a voi, questa, da quello che vedo, non è totalmente rigida. E soprattutto costa un sacco di soldi. Costa 39 euro più i soldi della spedizione. Quindi, se dovessi dirvi che ve la consiglio, io, ammesso proprio non siate fissati come me con la ROG, ve la sconsiglio. Sconsiglio assolutamente. Perché su Amazon potete trovare una custodia compatibile e anche rigida, quindi più sicura, con 10-15 euro. Stesso discorso, invece, non posso fare per questo. Nel senso che la docking station, questa è una docking station compatibile, ho scelto questa perché il prezzo della docking station della ROG era, l'ho ritenuto, totalmente assurdo. Per cui, mentre questa ho pensato, me la porto mentre sto in treno, sto purtroppo spesso in treno, e quindi ci posso giocare, voglio fare il figo che accio fuori la custodia con l'occhietto della Republic of Gamers. Mentre, per quello che devo fare a casa, nella mia postazione, mi è sembrata più comoda questa, che era la scelta anche più oculata da un punto di vista economico. Comunque, fatta questa piccola premessa, facciamo il nostro unboxing. sta uscendo, sta uscendo, sta uscendo. E allora, come... Ecco qua. Republic of Gamers. C'è il nostro tema della ROG. Purtroppo, come dicevo, non è rigida. È mollacciosa. C'è addirittura le istruzioni, non sapevo che potessero esistere le istruzioni per una custodia. Vediamo un attimino come... Scusatemi. E quindi, la inseriamo qui. Questa... Non riesco a capire la presenza di questo. Comunque... Comunque... Ci mancherebbe che non ci andava nella custodia originale. Sembra una protezione abbastanza solida, tutto sommato, anche se... Insomma, più stilosa che pratica come prezzo. Ok? Quindi... E insomma, non posso dire... Cioè, mi piace da impazzire. Però... Però... Forse... Se dovessi consigliarvi di spendere sti soldi per una semplicissima cover, non potrei dire... Non potrei dire di sì, non mi sentirei di consigliarvela. Questa è la SD dell'Alexar. Non ci servirà l'adattatore SD card. Di fatti questa è una micro SD. 512 giga. Ha una velocità di trasferimento di 100 megabyte al secondo. Quindi è una class 3 a 1. Sinceramente mi è sembrato su Amazon il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni e poi vedremo come va anche nella seconda parte del video. Vediamo però di concentrarci su questo. Questo docking station multifunzione me la danno come compatibile con la ROG Alley anche se in foto, se vedete questa, è una Steam Deck. Mi dice che ha il fast charge a 100 Watt, ha una presa HDMI fino a 4K a 60 Hz, ha la porta Ethernet e delle prese USB. Vediamo un attimino anche qui come va. Distruggiamo la confezione come se non ci fosse un domani. altrimenti che unboxing sarebbe. Ok. E abbiamo qui la nostra docking station. Vi ripeto, il prezzo è contenutissimo. Quindi spero che però la qualità sia interessante. Interessante, ecco, vedete? JSO dovrebbe riuscire a contenere e a far star comoda la ROG Alley. Tenete presente che mentre la docking station di Steam Deck usciva con un suo caricatore, questa, che serve anche ad attaccarla alla corrente, avrà però bisogno del caricatore originale. Ok. Quindi vediamo un attimino come va. Qua dietro ha la USB-C, dove attaccherete il caricatore della ROG Alley. escono una presa HDMI e poi, devo dire, due misere porte USB. Due misere nel senso che speravo di poter attaccare l'alimentazione del monitor a questa e invece mi sa che non potremo se voglio attaccare mouse e tastiera. E poi qui c'è la HDMI. Da sopra abbiamo la USB-C. Vediamo se si tiene. Ah, però, devo dire, devo dire che non ci possiamo lamentare. Ecco. Quindi, forse, forse, sarebbe utile acquistare anche un moltiplicatore di prese USB in modo da poter attaccare anche l'alimentazione del monitor a questa docking station. Devo dire che mi risulta essere molto più comoda rispetto a quella originale che praticamente vi obbliga a utilizzare letteralmente è la basetta di cartone della ROG che, sì, è carina, fa un po' di scena, ma nulla più. Mentre invece questa potete metterla su una mensoletta diventa a tutti gli effetti una buona sistemazione per per la casa, per l'utilizzo casalingo. Quindi, questa prima parte di unboxing possiamo dirla terminata qua. Abbiamo visto quindi il case per utilizzare le importatività e abbiamo visto SD e docking station in questo caso una compatibile della GESAU che il nome è? Sembra un ok GESAU e va bene proviamo ci rivediamo a breve con la versione diciamo montata. Eccoci con la nostra configurazione con la ROG L.I. in versione desktop replacement vedete quindi abbiamo la nostra ROG L.I. è stata connessa al monitor Arzopa gaming monitor trovate la recensione in un altro video sul canale è importante questo monitor a mio parere perché sostanzialmente supporta i 120 Hz quindi anche eventuali 120 frame al secondo ha una risoluzione di 1080p e ha anche l'audio integrato per cui tutto sommato non male abbiamo attaccato un mouse abbiamo attaccato una tastiera in questo caso aspettate ve la faccio vedere meglio trattasi di tastiera gaming della SteelSeries ma onestamente potete scegliere la tastiera che meglio preferite e poi abbiamo attaccato anche il pad della Xbox serie X in questo caso vedete è stato collegato funziona perfettamente adesso se la vedete così questa è l'interfaccia della Armory Crate in questo caso quindi attraverso la docking station guardate la docking station funziona perfettamente e per il prezzo che ha di penso 15 euro non posso che consigliarvela perché permette da un lato di utilizzarla esattamente come una console per come è stata pensata allo stesso modo però vedete sotto nasconde l'anima di un computer per cui adesso ci andiamo a provare il nostro solito video chiamolo a tutto schermo vediamo se l'audio è al max ok ovviamente nessuno vi vieta se volete attaccare una boombox o un subwoofer esterno via bluetooth potete migliorare anche l'audio ma insomma quelle sono scelte vostre io al momento l'ho sistemata così come vedete quindi da un lato questo vi consente l'utilizzo esattamente di un computer a tutti gli effetti quindi con i suoi pro e i suoi contro se invece volete utilizzarla come come console potete tranquillamente entrare ah volevo farvi vedere che nel frattempo ecco vedete SDXC il computer ha riconosciuto la mia micro SD dell'Alexar su cui non voglio dire ancora nulla perché non l'ho fatto ma è chiaro che tutto questo spazio che va a raddoppiare se vedete che cosa ve ne fate di questo spazio in più o installate il doppio dei giochi per Windows oppure la dedicate come vorrei fare viste le richieste che ho ricevuto in questo frangente a degli emulatori io non vorrei dirlo ma magari potrebbe essere che riesco a trovare il modo di installare Emudeck e renderla al pari quindi della Steam Deck anche per gli emulatori come ultima cosa prima di chiudere il video vedrei di andare a provare l'esperienza di gioco se il volume è troppo alto abbassiamolo che non vorrei demonetizzato il video torniamo al nostro gioco ci rivediamo quando carica ed eccoci in game vediamo se è tutto ok come vedete sto utilizzando il pad della Xbox in questo caso l'ho connesso non via bluetooth ma ho preso c'è una versione che ha anche il suo receiver apposito per fare in modo che si connetta in maniera semplicissima si preme il tastino qua e fa il pairing dovrebbe essere un 2,4 di frequenza ottimizzazione per il tuo pc questo ha fatto un aggiornamento purtroppo è il gioco di forza che gira anche su un tostapane ma ogni volta che c'è un aggiornamento poi riottimizza o magari anche il monitor ci interrompiamo ancora un secondo e poi prometto vi faccio vedere come va il gioco quando ho fatto eccoci finalmente in game vediamo come se la cava su uno schermo più grosso la roga lae sempre uno scattino all'inizio scegliamoci una gara trasferimento rapido perdonatemi se lascio il come vedete perdonatemi se voglio dire lascio il volume basso ma non voglio farlo demonetizzare vediamo come va magari proveremo qualche altro gioco velocemente in modo da farvi vedere un po' come boot e poi chiuderemo il video mi raccomando datemi una mano a far crescere il canale se vi piace spaccate il tasto del mi piace condividetelo se avete i commenti richiedeteli che scrivete qualunque cosa vogliate cercherò di rispondere come sempre a tutti ok finalmente ci siamo dai fammi giocare su ragazzi guardate che spettacolo aspettate voglio mettere a fuoco benissimo dovrebbe essere andato così mettiamo fuoco sullo schermo piuttosto che sul pad e questa è la ROG Allie tramite docking station attaccata attaccata a un monitor esterno sentite io vi devo dire che questo gioco è meraviglioso è davvero la facilità tramite windows di poter e io suppongo che anche per chi ama non lo so assetto corsa competizione io non credo che se volete attaccare il logitech g920 aia che mazzata terribile io non credo che sia un problema la compatibilità anche di un volante serio nel senso che come vedete questo è un vero e proprio computer a tutti gli effetti e la presenza di windows se da un lato è pesante ma come vedete attaccata alla corrente va va a bomba anzi la verità è che vi dico se dovesse questo questo chip è anche più potente di quello che vedete nel senso che se si potesse aumentare manualmente il tdp ma io confido che non ci voglia molto prima di poter avere una configurazione manuale totale che permetta di consumare più corrente ma di sfruttare questo piccolo mostro al massimo delle sue potenzialità quindi vi devo dire la situazione si fa interessante ovviamente fatemi sapere anche nei commenti se siete interessati perché con la presenza dell'asd oltre ad aver aumentato lo spazio potremmo inserire un bel po' di emulatori e vedere se tramite launchbox o addirittura tramite la versione beta di emudeck per windows si riesce a fare qualche cosa di carino il gioco è su livelli dettaglio comunque medi guardate possiamo anche provare a cambiare la visuale è uno spettacolo vero e proprio incredibile guardate ok forza 5 esame superato adesso stacco un attimo ci vediamo qualche altro giochino altro gioco interessante ovviamente lo sapete da me troverete prevalentemente giochi di avro giochi di corsa anche se sono appassionato di un po' di tutto ma i giochi racing se li ho nelle vene per cui al momento è disponibile sul game pass need for speed unbound vediamo come va il controllo è preciso ammazza qua sono io che ho fregato c'ha delle visuali ma che strano questo gioco madonna questo gioco con le questo street art con i graffiti vediamo di fare ben z allora se è ispirato a burnout paradise dovrebbe no l'auto era già considerata a posto hai distrutto l'auto però come vedete anche per quanto riguarda l'ultimo need for speed la rog allai fa il suo sporco dovere che bello certo questo è un gioco più arcade e poi vi devo dire molto bello graficamente ma addirittura è più arcade di forza horizon e alcune cose sembrano essere non fattibili senza la sgommata così come è un effetto rubber band un effetto elastico un po' eccessivo per i miei gusti però era giusto per far c'è un po' di screen tearing vedete era solo per provare insomma come va anche questo direi che è un esame superato dalla nostra rog allai andiamo avanti con qualcos'altro eccovi invece su forza horizon 4 quest'oggi tutti i giochi via auto ho preso un punto panoramico vabbè volevo farvi vedere un evento qui potrete vedere anche i caricamenti per fortuna sono tempi accettabili pensate che bestia che diventa questa cosa se eccoci qua se si riesce a sbloccare in maniera totale e aumentare il tdp ulteriormente quando è connessa alla corrente cambiamo visuale facciamoci un po' di prima persona guardate che spettacolo aia che stanno prendendo sportellate un po' aia che stanno aia 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 tenete presente comunque che mentre la docking station e la sd insieme a un case protettivo sia quello originale sia quello compatibile sono secondo me assolutamente indispensabili e oddio un case scusatemi una docking station di quelle compatibili volendo se avete anche la steam deck potrebbe servirvi per entrambe semplicemente cambiate il trasformatore che ci attaccate e quindi secondo me è l'acquisto più azzeccato sono contento di aver preso una compatibile per quanto riguarda invece tutto il resto per trasformare la scusatemi la rog ally in un vero e proprio computer fisso e insomma io non è detto che dobbiate comprare per forza mouse e tastiera io vi consiglio caldamente soltanto questo monitor che è delle dimensioni giuste questo è un 15 pollici per cui sostanzialmente vedete qua il 1080p è assolutamente perfetto non vi da problemi di nessun tipo le immagini sono veramente bellissime però insomma voglio dire di tutto quello che vedete in questo video come accessori scegliete voi con una certa oculatezza o comunque secondo il vostro gusto quello che è davvero non vi nascondo che sono ancora in attesa non ho fatto il video ma io volevo farvi vedere ho ordinato mouse gaming è una tastiera meccanica su Temu a 5 euro per dirvi al momento ho preferito far uscire questo video ma Temu è rimasto bloccato c'è dei tempi tra un po' credo che mi risarciranno però voglio dire poi magari se vi interessa quando arriva tutto vi faccio vedere vi faccio un unboxing di quello che c'è ma insomma sono sono tante le possibilità ecco e questo era forza Horizon 4 io farei vedere l'ultimo gioco e poi chiudiamo il video per chiudere ho scelto un gioco un po' più semplice Horizon Chase Villa Ricca bene Villa Ricca è in Peru o è qua vicino bene bene questo gioco lo trovo questo suo stile così particolare lo trovo fantastico non mi nascondo che sto quasi pensando di fare l'abbonamento ad Apple Games Apple Play come diavolo si chiama anche se sono da sempre contro Apple per poter provare il secondo uscito che è un capolavoro anche lui ma che al momento è un'esclusiva di Apple e insomma come vedete siamo riusciti a trasformare questo piccolo questo piccolo mostriciattolo usciamo da questo piccolo mostriciattolo è stato trasformato in un vero e proprio computer da casa ma non dimenticate che esattamente come è molto semplice attaccare due cavi e praticamente poterlo trasformare in un pc fisso tra le cose che vi consiglio c'è anche questa per cui con un semplice click qua si stacca vedete si stacca il turbo mod e così potete metterla nella custodia ed è pronta per stare sempre con voi sia a casa che in viaggio per questo video direi che è tutto spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete mi piace spaccate il tasto di mi piace commentate condividete il video aiutatemi a crescere nel canale che è sempre un piacere condividere le mie passioni con voi ragazzi ciao a tutti da Giso e alla prossima